ci troviamo a venezia alla scuola grande di san teodoro davanti a me c'è un quadro della clima mardenova un artista cosacca che partecipa a una mostra della dem che si intitola art ambassador è un artista che ci riporta tutto il sogno tutta la fantasia e la cultura russa in questo bellissimo razzo dove possiamo vedere tutti gli elementi che in qualche maniera caratterizzano la cultura orientale russa e i cavalli cavalli la steppa e poi le signore le dame vestite all'orientale e è un quadro che si intitola sognando un arcobaleno ecco tutti questi elementi si introducono perfettamente nel nel mondo della cultura russa e portano qui da noi degli elementi che a venezia abbiamo sempre riscontrato perché i contatti tra l'oriente e l'occidente trovano in venezia la sede ideale grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti